Solo per una decina di giorni e solo se gli organizzatori faranno richiesta in tal senso, sul prolungamento dell'apertura dei chioschi dei navigli con una proroga di attività dal 19 settembre fino al 31 ottobre arriva lo stop dell'assessore alle attività produttive Antonio Bressa che placa le vivaci polemiche che già si agitavano tra i gestori di locali padovani con in prima fila lappe. I vertici dell'Associazione dei pubblici esercizi padovani lunedì non avevano usato giri di parole per manifestare direttamente all'assessore la propria netta contrarietà. Bressa in quell'occasione aveva sospeso ogni risposta in attesa di un'eventuale richiesta formale dai navigli che nel frattempo è arrivata assieme a stretto giro della presa di posizione di Palazzo Moroni. Dobbiamo tenere conto anche delle preoccupazioni di alcuni residenti nella zona e delle richieste dei pubblici esercizi, ha chiarito l'assessore. La decisione è quindi di autorizzare, se sarà avanzata una richiesta riformulata in tal senso, solamente l'Octoberfest dal 19 al 30 settembre. Secondo Bressa si tratta di una soluzione ragionevole e rispettosa degli interessi di tutti e in questo senso è proposta agli organizzatori dei navigli dai quali ora si attende una risposta.